Luciano Lobianco, presidente sezione UILDM di Legnano. 60 anni, 60 anni di solidarietà. Luciano, la tua emozione di essere arrivato a questo importante traguardo? Allora è evidente che è un'emozione eccezionale, anche perché io ho la fortuna di essere forse uno dei più vecchi dell'associazione, perché ormai sono già 52 anni che sono all'interno di questa organizzazione. Ho iniziato a 17 anni e sono 68 passati, quindi sono ormai quasi 52 anni, quindi l'ho vista nascere, l'ho vista crescere e devo dire che è un'emozione eccezionale, soprattutto nel ricordo di tutti quelli che ci hanno lasciato qualcosa, perché il ricordo di tutti quelli che sono passati non è solo un ricordo, ma è una parte della costruzione di quello che c'è adesso. Quindi è veramente eccezionale, veramente meraviglioso questo passaggio, questo momento in cui più che rievocare il passato, ci proiettiamo nel futuro. Infatti il nostro motto quest'anno è 60 anni è solo l'inizio. È proprio per questo, perché ogni giorno, ogni mese, ogni anno, riniziamo continuando quello che stiamo facendo da allora. A volte è superfluo dire cosa facciamo, perché quello che facciamo è molto legato alle persone che vengono. Quindi ovviamente abbiamo valutato il servizio civile, abbiamo trasporti, abbiamo laboratori, abbiamo un po' di tutto qui a Regnano. E la fortuna è che ci sono tantissimi giovani, giovani che sono interessati, che sono protagonisti dei progetti della loro vita, perché diventa fondamentale per questa cosa qua. Noi non vogliamo mai stare davanti, vogliamo sempre stare dietro, insieme spingere, insieme cercare di collaborare attendendo chiunque. Le persone con disabilità sono volontarie esattamente come gli altri. Ognuno, in base alle sue capacità residui, dà quello che può e viene stimolato anche in questo. Quindi devo dire che 60 anni è solo l'inizio. 60 anni è solo l'inizio e noi vi auguriamo tanti altri web, bei traguardi e successi. Grazie.